Sciclub Senigallia andiamo Gerardo a Porto Sant'Elpidio anzi abbiamo Merio e poi l'arancino ecco adesso questo è Gerardo Gerardo vai con un altro allora Roberto si riconosce giallo ok ok Roberto Angela e adesso Miss Sciclub Senigallia vediamo un po' Martina sentiamo i commenti di quelli che stanno dietro me comunque è tutta gelosia Martina Miss Sciclub Senigallia non 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 non